Ora sta meglio ma deve rimanere sotto controllo e stare a riposo assoluto. Mio fratello conduce a una vita stressante, deve dare un freno. Valentina De Giovanni, sorella del noto scrittore e romanziere napoletano Maurizio, tira un sospiro di sollievo dopo una notte vissuta con tensione insieme al resto della famiglia. Il fratello Maurizio De Giovanni, 64 anni, è stato colto da un attacco cardiaco nella sua abitazione mentre era in compagnia della moglie e altri parenti. Immediatamente è stato trasferito al Cardarelli dove i sanitari gli hanno praticato un'angioplastica. L'intervento è riuscito perfettamente ma non può riprendere nell'immediato la sua attività professionale. Difatti a causa delle sue condizioni di salute è stato momentaneamente sospeso l'intero tour, un calendario fitto di appuntamenti, troppi per lo scrittore colpito improvvisamente da un infarto. A seguire con attenzione le sue condizioni di salute è anche il golfo di Policastro dove De Giovanni trascorre le sue vacanze estive fin dall'infanzia. Anche se sta meglio, resta ricoverato in ospedale sotto stretta osservazione del personale medico.